Sono già due anni che lavoro nella stessa azienda, non ho nessun problema, anzi sono più che contento. Che lavoro fai? Faccio il manutentore degli impianti fotovoltaici, li stallo e seguo un po' la parte burocratica, tutta la parte di reportistica. Andrea viene da Modena e due anni fa si è diplomato all'ITS, Istituto Tecnico Superiore di Fabriano, con indirizzo Efficienza Energetica. È tornato per la consegna dei diplomi dei suoi compagni. Sono stati 30 coloro che lo hanno conseguito in questo anno scolastico, dopo due anni di studio, 1800 ore di attività in aula e con laboratorio, 500 ore di tirocinio in azienda. Il 100% di loro ha già trovato lavoro. La mattinata si è aperta con l'introduzione dei lavori, seguita da due vere e proprie lezioni. La prima sul ruolo delle imprese nella formazione superiore, tenuta da Diego Mingarelli, presidente del Comitato delle Piccole Imprese delle Marche. La seconda sull'industria 4.0, con relatore Claudio Cola, direttore generale della SPM Instrument di Fabriano. Poi il momento più atteso dai ragazzi e dalle loro famiglie, la consegna dei diplomi. Questi giovani arrivano non solo dalle Marche, ma anche da Puglia, Toscana, Sicilia. Altro momento importante è la premiazione del concorso Un Video per l'Ambiente, destinato a tutte le quinte classi delle scuole secondarie marchigiane, invitate a realizzare un cortometraggio. A vincere l'ITCG Antinori di Camerino. Per i partecipanti, una power bank alimentata a luce solare e un audit energetico da parte di un esperto nella gestione di energia del valore di 2.000 euro per l'efficientamento della scuola. Infine, il taglio del nastro per il nuovo laboratorio che è un'eccellenza. Questo laboratorio, che per noi è un laboratorio di grande interesse tecnologico, ci viene invigliato un po' da tutti. Qui sull'energia possiamo studiare qualunque elemento particolare la può caratterizzare. Ecco, un po' come nell'indirizzo Merloni si fa il laboratorio tecnologico con la carta. Anche lì possiamo sapere quello che c'è dentro perché ce l'abbiamo solo noi, certi strumenti. L'ITS di Fabriano è un corso post-secondario che vive della collaborazione con l'Università di Camerino. Poi non si esclude che questa formazione possa continuare. Noi ad esempio con questo ITS collaboriamo anche nel riconoscimento di attività formative che poi potranno essere riutilizzate nell'ambito del corso di laurea stesso. E poi si costruisce anche una filiera nel mondo della ricerca perché queste persone preparate sono quelle che poi potranno stimolare i nostri ricercatori su temi specifici.